Dal 4 maggio a Roccaraso si metterà in moto la Task Force che dovrà definire la strategia di rilancio economico e turistico del Paese in vista dell'avvio della stagione estiva nel cuore della fase 2 dell'emergenza Covid. Si tratta di un gruppo di lavoro composto da amministratori locali, imprenditori, commercianti, associazioni e liberi professionisti in rappresentanza di tutte le categorie che individuerà le linee guida sulle quali costruire l'offerta turistica in vista della prossima stagione estiva. Lo ha annunciato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, spiegando che a breve saranno convocati tutti i portatori di interesse delle attività produttive e delle associazioni. Siamo in attesa di capire in che condizioni il governo e la regione ci permetteranno di affrontare la stagione estiva, quali saranno le prescrizioni e su quali fondi potremmo contare, ha sottolineato Di Donato. Dal 4 maggio, appena concluso il lockdown, il quadro sarà certamente più chiaro e noi dobbiamo avviare questa consultazione da subito perché sappiamo che certamente l'offerta turistica tradizionale andrà rimodulata e arricchita in termini di progetti e servizi. Ma voglio che sia una strategia il più possibile partecipata, ha aggiunto. Ascolteremo progetti, proposte e siamo pronti a sostenere quelli più interessanti e immediatamente cantierabili. Voglio anche sottolineare, ha concluso, che a livello comprensoriale chiederemo alla DMC Alto Sangro Turismo di definire una politica promozionale che sia univoca per tutto il territorio. Non ha senso in queste condizioni né andare da soli né restare a guardare. Servono le competenze giuste e le migliori professionalità per cercare di essere competitivi. L'impegno dell'amministrazione sarà quello di destinare in questa fase ogni risorsa disponibile al taglio delle tasse alle imprese e sostenere ogni tipo di promozione che renda attrattivi.